Silent Nights, notti silenziose, aumentano la qualità e o la quantità del sonno, la durata. Servono per combattere le insonnie, ma anche semplicemente per dormire meglio, più profondamente, aumentando la fase di sonno REM. Svegliarsi riposati, non so, tanti di noi se lo ricordano ancora, la cosa succedeva da bambini. Un dischetto, per non buttare i soldi, si utilizza due notti, si applicano la sera dalla domenica alla sera del venerdì. Sera del sabato no. Allora, cosa succede? Perché si possono utilizzare per due sere? Durano 12-14 ore, si stacca solo una delle due protezioni dell'autoadesivo, si applicano in una delle posizioni, si mette un cerotto di quelli che si usano per i piccoli tagli, per tenere ferma la parte che ancora ha la protezione. Questa è la prima sera. La seconda sera si staccano entrambi gli adesivi e si applicano nella seconda posizione. Quindi con due cerotti si fanno quattro notti. Con tre cerotti, sei notti. Si devono girare, per le prime due settimane, tutti le posizioni. Perché vanno risvegliate, scusate il gioco di parole. Può essere che la prima posizione, la prima settimana non dio effetti e dopo aver percorso le altre cinque della prima settimana, nella seconda settimana la prima posizione sia la migliore. Dopo due settimane è una situazione completa di come, una mappa, di dove ci funzionano meglio. Ci saranno punti che ci fanno dormire troppo, nel senso che tutto il giorno dopo poi saremmo imbambolati, assonnati, sbadiglieremo. Altri che funzioneranno poco, altri che non funzioneranno per nulla, altri che funzioneranno il giusto. A quel punto sapremo dove utilizzarli. Cosa fanno questi dischetti? Rieducano la tua epifisi, non ipofisi, che è una ghiandolina che c'è dietro al cranio in alto, sopra le vertebre, proprio lì dietro, a produrre melatonina. Quando questa è rieducata, basta, non li utilizzi più e te ne accorgi la domenica quando li usi. Due dettagli che non lo sono. Dormire bene fa bene perché la melatonina che viene sviluppata durante la notte è un fortissimo antifiammatorio. È il secondo punto di mutazione. Altra cosa, la melatonina aiuta a bilanciare il sistema ormonale. Detto questo, spesso viene utilizzato per combattere le caldane legate alla menopausa. Grazie.